Qui è Pieruggi Bardo che vi parla per raccontarvi il match di oggi con il prezioso contributo di Stefano Nava al mio fianco. Troppo buono Pier, un saluto a tutti gli amici che ci seguono. Ultimi preparativi prima del fischio d'inizio di questo Tottenham Manchester United, capace di regalare spesso emozioni e gol. Ci sono grandi campioni da una parte e dall'altra, gente in grado di cambiare la partita in qualsiasi momento con una giocata. Primo possesso della gara per gli Spurs. I due allenatori avranno preparato senz'altro nei minimi dettagli questa sfida e vediamo quali accorgimenti tattici adotteranno. Guadagna metri verso l'area, palla vagante. Occhio al contropiede, Wanyama e c'è il gol, palla in rete. Primo tiro in porta e primo gol, davvero cinica qui la squadra. Ha colpito con decisione spedendo un pallone molto molto potente accanto al palo di sinistra. Ed ecco dunque arrivato il primo gol dell'incontro, 1-0. Bernardo Silva. Herrera. Punta l'area. Buon possesso palla, cercando sparsi. Manovra interrotta dagli avversari. Wimmer. Buon possesso palla, caccia di sparsi. Lo ferma ma non controlla. Herrera. Eriksen. Pogba. Martial. Eriksen. Bernardo Silva. Possesso per lo United. Traversone in area. Buon intervento difensivo. Sarà calcio all'angolo per il Manchester United. Trova il portiere. Può far male da lì. Palo e non è finita. Attenzione. C'è il vantaggio, attacca il Tottenham. Si riprenderà dunque con un fallo laterale. Nessun dubbio qui, dopo il vantaggio, arriva il cartellino giallo. L'azione è proseguita per il vantaggio, ma il fallo era troppo brutto per poterlo ignorare. Cercano di aprire la difesa avversario. Occhio al suo movimento. Aspetto. precedenti. Occasione. Martial. Eriksen palla larga manovrano elegantemente con questa serie di passaggi per vento dell'avversario chiude una lunga serie di passaggi Herrera Martial si avvicina all'area può metterla da lì non è riuscito a trovare lo specchio della porta poteva essere in pari è vero, ha perso una grande occasione poteva essere il pareggio Hong Min Son palla in mezzo dopo un buon intervento Dyer conquistano una buona posizione distanza favorevole batte la punizione e possono ripartire Herrera maragna metri ha sbagliato il disimpegno regalando la rimessa con le mani guanyama guanyama la mela pugba under Herrera palla fuori grande occasione gettata al vento qui è questa occhio cerca l'area di rigore azione che sfuma con il pallone che termina sul fondo sarà rimessa per il portiere Dyer la mela punta l'area buon intervento difensivo Bernardo Silva buono il De Valle palla verso il compagno non può sbagliare Ericsson è arrivata la lete che consente di riazzuffare la parità stavano attaccando con maggior insistenza il gol era nell'aria hanno qualità da vendere la differenza si sta vedendo tutta in campo hanno pareggiato dunque 1-1 Dyer con Minzon sarà calcio di punizione contro lo United la vela portiere che si allunga e sventa la minaccia palla sul fondo corner per il Tottenham con i pugni a lontana Alderweirel e sarà rigore freddissimo dal dischetto grande freddezza per la trasformazione dagli 11 metri i rigori sono sempre una sfida di merdi tra chi calcia e il portiere e stavolta ha vinto lui partita che riparte con lo United dunque in svantaggio Bernardo Silva possesso per lo United Kane e il pallone se ne va via arriva il finale di questa prima è tutto pronto per l'inizio del secondo tempo qui ad Old Trafford Bernardo Silva Bernardo Silva Ericsson Ericsson Occhio al suo movimento palla vagante Wanyama Ericsson l'arbitro ha visto qualcosa attenzione rischi al giocatore degli Spurs non ci sono dubbi qui ammunizione ci sta tutta ci sta tutta l'arbitro ferma il gioco punizione contro il Tottenham hanno già battuto ha perso il pallone squadra ospite che sembra pronta a cambiare qualcosa credo che sia arrivato il momento giusto c'è bisogno di forze fresche passaggio che non era certo tra i più precisi questo ha agevolato il suo intervento Ericsson buono l'1-2 continua il tiki-taka alla ricerca del momento giusto deve sfruttare Ericsson palla che finisce ha segnato ed è un pareggio meritantissimo grande eleganza nel tiro ha piazzato benissimo il pallone davvero un gol di precisione formidabile Pierluigi match davvero spettacolare per i tifosi neutrali due a due risultato Alderweirel e c'è un cambio in arrivo per la squadra ospite c'è bisogno di energia di forze fresche credo sia il momento giusto questo Valencia pallone che finisce in pallo laterale la vela baragna metri Pogba Kane squadra ospite che sta per effettuare un cambio gli avversari hanno preso le misure ed è necessario correre ai ripari Dani Rose Valencia palla schizza via dopo il contrasto ci sono metri a disposizione c'è spazio davanti a sé ottima la chiusura ferma l'azione l'appoggio di testa al compagno un'ottima serie di passaggi Harry Kane non trattiene occhio alla possibilità mancano 20 minuti alla fine palla girata sulla corsia crossa in mezzo ottima la lettura difensiva manchiata alla grafica c'è sostanziale equilibrio nel possesso di palla esatto i due modelli di gioco sono alla pari Ericsson controllano molto bene il possesso del pallone la mette in mezzo Harry Kane è un gol pesantissimo possono festeggiare il gol era dell'aria e puntualmente è arrivato tutto bellissimo il cross della sinistra ha dosato la perfezione e ovviamente la conclusione dell'attaccante un gol da dividere la metà con chi ha fatto l'assist è stato un gioco da ragazzi mettere il pallone oltre il portiere avversario dici bene Pier questa è di sicuro il frutto di qualche lunga sessione di allenamento con mezzo squadra che sembra pronta a cambiare qualcosa credo che sia arrivato il momento giusto c'è bisogno di forze fresche manovra interrotta dagli avversari Bernardo Silva Pogba buon possesso palla caccia di spazi le dar attenzione occasione e nel rete gli sono bastati pochi minuti per lasciare la sua impronta sul match mai cambio fu più azzeccato risultato adesso sul 4 a 2 la mela e c'è un cambio in arrivo per la squadra ottica c'è bisogno di energia di forze fresche credo sia il momento giusto questo ancora 8 minuti prima della fine della gara possesso per lo United lo ferma ma non controlla fermano la malavra avversaria Sissoko Alderweireld recupera bene Pogba occhio cerca l'area di rigore Olli il portiere dice di no alla fuori ci sarà corner per lo United attenzione Wimmer Palla vagante adesso e arriva il fischio finale vittoria dunque per lo United oggi è andata una dimostrazione clamorosa del loro impressionante potenziale offensivo nulla da fare contro una squadra così Pierluigi ha disputato una partita eccezionale una grande gara ha trascinato il successo della sua squadra con una fantastica doppietta una prestazione di grande impatto per la sua squadra per la sua squadra per la sua squadra Grazie a tutti.